Cari fratelli e sorelle, mancano ormai pochi giorni al viaggio che mi porterà in mezzo a voi, a Sarajevo. Questo pensiero mi dà gioia e desidero fin d'ora rivolgere il mio saluto più cordiale a tutti voi che vivete in questa città e nella Bosnia e del Sezgovina. Vengo tra voi con l'aiuto di Dio per confermare nella fede i fedeli cattolici, per sostenere il dialogo ecumenico e interreligioso e soprattutto per incoraggiare la convivenza pacifica nel vostro Paese. Mi preparo a venire tra di voi come un fratello messaggero di pace per esprimere a tutti, a tutti, la mia stima e la mia amicizia. Vorrei annunciare ad ogni persona, ad ogni famiglia, ad ogni comunità la misericordia, la tenerezza e l'amore di Dio. Grazie. Grazie.